buonasera a tutti dal vostro felice Alessandro Maggia Alessandro Alessandro ma porca miseria Alessandro che c'è? io ti ho detto che dopo le generali ci dovevamo cambiare ma guarda come ti presenti ma guarda che figura ci facciamo e vabbò dai presentiamo su porre sempre presentiamo su per la sezione teatro in rappresentanza della regione toscana da Villa Franca e Luigiana in provincia di Massa e Carrara e i ragazzi dell'istituto statale da Vinci e di Liceo Lopardi di Aulla presentano il progetto Sogni e Sposi commedia che affronta la crisi che matura all'interno di una famiglia italiana dei nostri tempi in preda frustrazioni di vario tipo in cui l'improvviso mutamento di situazioni ormai date per certe mette in evidenza equilibri precari di un nucleo adagiato sul proprio stato sociale che gli possiamo dire? che gli possiamo dire? Alessandro buono spettacolo che gli possiamo dire? andiamo su buono spettacolo scoppa! ma se ti ho fatto questo segno non mutarmeli eh scusa ma oltre che muto mi sembri anche un poco scemo la tua ecuma ha molte proprietà benediche un anti-infiammatorio un anti-ossidante scoppa! ma se ti ho fatto questo segno cosa fai? mi butti un carico? eh ma è inutile che fai il segno di scuse la prossima volta gioco con la segna faccio più punti mi donando come faccio a Jenny a stare con uno come te? ti dicevo la tua ecuma ha molte proprietà benediche un anti-infiammatorio un anti-ossidante e un anti-coagulante scoppa! se ti ho fatto questo segno ho fatto questo sai ma allora saluto una dita scoppa! e togli di quegli occhiali ah e certo eccoli lì tutto bene ragazzi? salve signora se deve lucinare le consiglio la curcuma grazie ma forse non dovevo essere io a cucinare siccome torno ora dal lavoro e lavare le scale non mi sembra un lavoro tanto leggero scoppa! viva le donne d'estate che sono tutte sfogliate hai anche voglia di scherzare eh scusa Katia che non mi sono accorto del oiaio ah non ti sei accorto e che cosa ti ha impegnato così tanto? scoppa! posso dire Katia che si vamos tuo marito non ha fatto un cavolo tutta la mattina però Katia gioca da dio ah questo mi consola davvero mi riempie di gioia ci sono dei sofficini sentite ragazzi i sofficini a questo si riduce un lato fallito scoppa! no Katia non dire così Michele è un grande attore magari un po' sfortunato via si è un grande attore che non l'ha ancora più da due anni è colpa mia se non mi fanno più lavorare? beh due anni fa conoscevi il programma televisivo più seguito dal paese adesso non ti vogliono nemmeno più alla saga della castagna di Barbarasco qualcosa avrei fatto no? già è vero ma cosa hai fatto di così grave? basta! sparite dalla mia vista e forse non l'avete mai visto la donna incattata si ragazzi forse è il caso di andare non è il caso signora ne sofficini se gli apre la curcura fuori! tu forse non hai capito tu devi muoverci io sono stufa di vederti così senza stevoli senza ieri e soprattutto senza soldi sei come tutte le altre una piccola borghese perché voglio che tu lavori ebbene sì i soldi sono importanti ok? non voglio più essere povera ma non siamo ancora poveri e poi la armi deve ancora lo diventeremo presto mi chiede se non trovi un lavoro ma io sono un artista un po' stoppa! tu sei fuori da quel mondo mettitelo in testa non ti vogliono più sei finito! e che faccia allora? fai un lavoro normale sai coltivare i carciofi? coltiva i carciofi o vai a raccogliere i pomodori come fanno gli extra a compitare io non posso raccogliere i pomodori ah è certo il grande artista non può è vero però quando ti portava a casa i milioni andava tutto bene è questo quello che pensi di me? io sinceramente Katia non so più cosa pensare né di te né di nostra figlia e neanche di me stesso dov'è Regina? è ancora nella sua stanza si può sapere che lo sta facendo da l'una e mezza io non ne ho da più fare l'idea se il marino non lo vuoi fare almeno il padre lo sai fare puoi smetterla di accettare ogni cosa che fa io non accetto tutto quello che fa ciao papà era quel provino esatto provino a cui ti ho espressamente proibito di andare e con quale autorità? con quale autorità? l'autorità di madre si ma il giorno d'aggi non è sufficiente e poi papà? ah è certo papà è lui che ti mette in testa quelle strane idee vero? basta mi sono l'autorizzo e berei e poi cosa sono quei capelli viola? si lo so neanche a me piacciono tanto eh però vanno di moda e perciò mi chiusa di darli Regina te lo ripeto e non è per il quattro di latino che hai preso l'altro ieri che si aggiunge al tre di matematica che hai preso ieri che si aggiunge al due di piccato per l'ordine che si aggiunge cosa? Regina non puoi continuare così lo capisci che se non studi non otterrai nulla nella vita come te? come me perché come me? hai studiato tanto per fare la squadra era un mestiere frustrante che tra l'altro ti fa guadagnare pochissimo manco posti cenerentola perché di principi azzurri ormai pensi che il valore di una persona si misuri solamente sui soldi? io non lo vedo su e tu? a proposito di principi non era oggi che tu dovevi vedere come un conte manfredo sei tu che me lo vuoi fare incontrare? per forza io? ma sei lui che? mamma a me non importa nulla rispettare un conte non mi importa nulla rispettare in ogni caso lo studio sai qual è il significato della parola studio mamma? tempo libero si mamma studio in origine significava tempo libero e a me non importa nulla di dover studiare tanto per poi andare a lessor a farmi una posizione beh allora tu Zeromo Aldo ha studiato tanto e è diventato ricco guadagna 5.000 euro al mese ma lui fa dentista beh si fa dentista e guadagna 10.000 euro al mese perché aveva la vocazione del dentista e tu che vocazione hai? di essere bella che cosa c'è di male nella bellezza? che cosa c'è di male nel successo dovuto alla bellezza? che cosa c'è di male nel guadagnare grazie alla bellezza? oh Giulio Evola ascolta che cosa hanno le tue modelle che io non ho Giulio Evola lo so che ti ho già convinto Giulio Evola sei già mio io voglio ottenere un provino con Giulio Evola e voglio smettere di studiare cosa? non l'hai? io voglio fare la televisione quello è il mio mondo lì voglio sfondare sai quante vorrebbero sfondare in tv? lo so benissimo ma io ma tu cosa? cosa pensi di avere in più delle arti? io sono bella e pensi che basti? no dovrei piegarti a donni compromesso e prima che tu entri nel mondo dello spettacolo il mondo dello spettacolo sarà inzato in te e tu sei solo vogliare io sono realista io voglio raggiungere il successo e non certo grazie allo studio perché di studiare non sono capace però ho un corpo che vale qualcosa Dio mi ha dato questo talento e voglio farlo buttare tanto per cominciare facerò salterò la cena e perché? ho preso 50 grammi nell'ultimo periodo devo dimagritere tu sei pazza? hai mai sentito parlare di anoressia? beh comunque sarebbe l'unica malattia adatta al mio stato alimentare e ora basta da oggi non mangerò più carne né prodotti derivati dalla carne perché mai sei diventata vegana? sono stupida Michele puoi mettere a bollire l'acqua e non ti chiedo di fare sughi troppi lavorati in frigo c'è il pesto che ho fatto io prendi quello e non quello dell'acqua perché c'è l'aria e lo sai che non lo rigerisco è troppo difficile questa azione perché si parla d'amore una biancolella una biancolella di Ischia e quindi fare la verifica Sudrio io ero un corpo sicuro ci ha detto io sono passato ma io non mi permettevo di andare a dare a un gioco come se fosse proprio nessuno non erano spiaciuti dove c'è scritto Juventus Centus per il centenario della Juventus il direttore Siete tutti pronti allora possiamo cominciarti tu si nel momento in cui ti sto passando un brutto periodo economico che vi serve ogni giorno per avere un luogo curato ed ordinato cose che ci aiutano lo Spirito Santo lo Spirito Santo è sempre Dio e una persona Michele ma dove sei? dove sono? sono qui qui? dove? qui dentro la televisione tu sei il tv di cosa ti stupisci? fino all'anno scorso mi vedevi tutte le serie il tv Sì, ma come ci sei entrato? meglio stare qui che stare a casa che dimmi non ho più voglia di sentire il tuo lamentere ma tu non puoi essere il tv vedi? qual è il problema? quando smetterei di decidere cosa io posso o non posso fare allora la nostra relazione potrà avere un senso non è che io ti impedisca di essere il tv tu non puoi essere dentro la tv e voi dove mi comandate di essere? mia principessa non puoi essere dentro la tv per una ragione fisica l'amore o la mancanza d'amore non risponde a una legge fisica sarebbe, sono il segretario di Giulio Evola eh sì, buongiorno, anzi no buon pomeriggio, come va? signorina che perfuglia, forse è massa devo chiamarla io la tua volante o ci pensa da sola no, è che sono un po' tesa ho letto che il signor Giulio Evola sta facendo delle audizioni per un nuovo programma tv meno chiacchiere signorina il provino lo vuole fare lei, no? eh no, cioè sì, sì, ovviamente io crede di essere bella? beh, presumo di sì sì, è sicura signorina o ci vuole far perdere tempo? io ci vediamo qua domani alle 10 qui? in questo teatro? questo teatro è di mister Evola ah allora alle 10 sì no, 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 no perché? la prego, facciamolo il pomeriggio perché? al mattino l'interrogazione di latino devo rimediare benissimo, allora alle 16 ma non vuole sapere il mio nome? il nome non è solo importante signorina e mi raccomando, si ricorda la dieta ma aspetti un attimo, che cosa dovrà preparare? un pezzo comico? drammatico? Katia, Katia, ci sei? no, bene ciao ciao tutto bene? tutto bene vedi? io sono riuscita a prendere la System Army finalmente sono riuscita a entrare in una pellicola americana degli anni 30 è bellissimo ci sono anche tanti mobili disoccupati ma è stata eletta o la Presidente Ayusbath e le cose cambieranno sai che per il vento nelle strade mi fa piacere e ho anche incontrato una nuova vita mi dici che dovrebbe essere stato in tutto ciò? beh, hai su un po' di sì scappare non ti sentirai niente e forse l'America non avrà bisogno di te ti fai sento? polette ciao e lei parla italiano? beh, è doppiata qua siamo poveri ma tanto felici io non sono tanto felice sono giorni che nemmeno riuscivo a mangiare New York è bellissima le strane sono piene di vita è l'ideale per un artista per un artista forse non certo per la gente normale dai, polette non cominciamo a litigare davanti a Katia ma io non voglio litigare vorrei solamente che talvolta questa seconda è qualcosa da mettere su chiudere è esattamente quello che gli dicevo anch'io ma come facevi a sopportarlo? lei sta scherzando non ascoltarla Katia è un po' depressa ti faccio vedere flashback grazie a tutti 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 per te è stato divertente per te è stato divertente Katia è tutto pronto per il matrimonio di Jenny? penso che sì saluta me la tante e dirle che le ho sempre voluto bene come vuoi anche a te ho sempre voluto bene inaugurarsi una volta solo non basta per farla con te adesso ti devo saluta per farla con te adesso ti devo saluta e sta saltando il collegamento spazio temporale ricordati che ti ho sempre voluto bene e ti auguro tanta ma tanta felicità voglio una curiosità cosa hai fatto che ti ho fatto così la mia domanda è venuta in trasmissione con lo spionzo del Vaticano la mia domanda è venuta in trasmissione con la mia domanda è venuta in trasmissione con la faccia di satana la mia domanda è venuta in trasmissione con la mia domanda è venuta in trasmissione con il book title Il latte, ma... Ti piace la musica rete? Sì, a volte l'ascolto, ma... Però... Spogliati! Cosa? Ti piace ballare? Certo, tutti i saluti, ma... Ti piacciono i reality? Certo, anche quelli... Hai problemi con la pubblicità? No, ma... Spogliati! Cosa? Ma insomma, Loredana... Regina mi chiamo! Regina o Loredana non è importante. Vuoi o non vuoi entrare nel mondo dello spettacolo? Certo, ma perché dovrei spogliarmi? Basta! Loredana! Regina! Regina! Se vuoi entrare nel mondo dello spettacolo, spogliarsi sarà solo l'inizio. Ah sì? Ma certo, dovrei soddisfare bene altre richieste, credimi. Altrimenti, puoi sempre fare la segretaria. Per quello basta anche essere racchia Ma io ho una segretaria racchia Ce l'ho già No, ma te che vede Io pensavo, tala, mia vocazione Il piano di sopra c'è un dentista che guadagna 30.000 euro al mese E so che per fare, sì, io e la mia band dovremmo farle sentire la nostra ultima canzone Per un videoclip Io sono il maestro del videoclip, già lo vedo Ecco, tu esci di casa Improvvisamente Una banda di lupi mannari infamelici Inizia a inseguirti per il bosco I capelli ondeggiano nel vento Cadi Gli sterpi ti feriscono I vestiti tutti laceri Ti alzi sanguinando E lì fai vedere le tette Ancora meglio Voi uscite di casa e inseguite da un gruppo di benzinai Inferociti pieni di denti Scappate in una landa desertica Orlanda che non posso Il sole abbacinante Inizia a farvi sudare Necessariamente dovete spogliarvi E lì Fate vedere le tette Ma la vostra è una canzone scritta per i terremotati? Per i terremotati Meglio fare vedere una tetta sola Basta, tranquilla Do you know Bunga Bunga? Spogliati, poi avremo tempo di parlare di sciocchieze Beh, forse io dovrei rifacere un po' Signorina Sì, perché vedeva la versione di latino Signorina Sì, no Sì, sì Signorina, lei è in una vita No, come mia madre Non ci faccio a perdere tempo Lei è stata selezionata per essere una ragazza immagine Per la pubblicità Per il prossimo motor show Eh? Ragazza show? Motor show, signorina Motor show A presente Brum Brum Ah, sì, ho presente Brum Brum Quello delle moto Niente a che vedere Con il Bunga Bunga Motorina Lei è spalle del sete Robby O è proprio malata di mente? No Brum Brum Io sono una rada Tragetica Noto che sei ancora vestita Scignetta Lei è contenta Se la chiamo più bene Non è vero, Scignetta? Sì, contentissima Sono persona pagata per essere contenta Appunto Prendi nota delle posizioni Buone Draiati E alza la gamba destra Va bene qui? Oh, perf Ora Volta il viso Devi essere sciolta Sì L'importante è che Devi essere il contrario Della racchia Come il corpo della racchia Bene Tu Devi essere tutta all'opposto Ah, ma Tutto è Silenzio Lo dico io Quando si ride Ora Sali su questo cavalletto E fingi di guidare una moto Così? Va bene così Devo fingere, no? Sì Guarda quelli della racchia Guarda quelli della racchia Scusi i vestiti di tua notte Non è vero? Racchia? Sì, esatto Sono proprio quelli di me Nonna Le fanno schifo Guarda che hai da guardare Fai una faccia sensuale Sì Più sensuale Sì Vai Va bene così Dai Scendi veloce Ora Vai là Spogliati tutta nuda Indossa solo Quello straccio Che ho trovato In cantina Non so bene Cosa sia Ma deve essere Appartenuta A qualche Gocciofila Di paese Ora è Vieni Vieni È Goduriax Che cos'è Goduriax? Il Goduriax È un liquore Da potere Afrodisiaco Imponente Se lo bevi Vorrai continuare Tutta la notte Prendi Io non ho bisogno Il Goduriax Sì Mi piaci così Proletaria Io non ho preso Insera Di quanto è cresce La palma Sì Racchia A me la gnocca Sembra ancora vestito E allora Dovrà sottoporsi All'ultimo provino È sicuro signore È necessario Seguimi Tu fai la pioggia I'm singin' in the rain You're singin' in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughin' in the clouds So dark of a while The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone for the place Come on with the rain I have a smile on my face I walk out of the rain With a happy refrain Just singin', singin' in the rain Dancin' in the rain I'm happy again I'm happy again I'm happy again Dovcutt It's not good yet Come on you 不要 Oo Iон I'm happy again Damn ab Denti! Denti! Ma come dire te? Mamma, sono stata infelice! Perché? Un altro brutto foto? No! Come no? No, ho fatto le foto per la pubblicità! Quelli di cui mi hai parlato? Sì! Quelli per il Motor Show? Sì! Bene, non è quello che volete! No! Ma come no? Non le ho utilizzate per il Motor Show! No? E per quale altro hai detto? Su internet mamma! Ma le mie foto sono state ritroccate e messe su internet insi di pornografici! Pornografici?! Pornografici?! Ma ti si vede tutta nuda! Anche gli uomini sono tutti nudi! Lo so, è sempre così! Tutte le ragazze vengono trattate così! Ascolta, regina! Io stessa vengo infortunata di tutti i giorni! Evola mi chiamerà anche! Ma intanto quando sono sola e sento lì a palpeggiare! E lei si lascia palpeggiare, signorina! Ma non ho un prezzo di dignità! Fa presto lei a parlare di dignità! Cosa dovrei fare? Denunciarlo! E poi... Sarei subito licenziata! E a casa ho una figlia di otto anni che devo allevare da sola! Da quando non ha rito mi ha lasciato! Io lo uccido! Hai ragione, mamma! Ora ho capito! Era meglio continuare a studiare! Studiare? Ma vuole studiare? No! Non sarà un porco a rovinare i sogni di mia figlia! Sai cosa vuol dire scuola? Tempo libero! E ti sembra che la tua scuola congira con il tuo tempo libero! Che vuoi dire mamma? Che gli sparo nelle palle, lo stronzo! Aspetta signor, non hai più toccato della mia figlia! Mamma! Amore! E non hai più! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.